Musica Ciao a tutti, oggi facciamo di nuovo un video di faccende domestiche, di lavoretti che si fanno in casa e oggi nello specifico vediamo come va lavato nel modo corretto l'accappatoio del bagno. Che oramai è diventato per tutti noi un indumento indispensabile ma che spesso si tende a riappenderlo e lasciarlo asciugare lì. È un po' sbagliato, non sarebbe la maniera corretta. Andiamo a vedere bene come va lavato. Oggi facciamo un video su come si lavano gli accappatoi in lavatrice. Non pensate che questa sia una cosa banale, perché l'igiene dei nostri accappatoi è qualcosa di molto molto importante e credo molto sottovalutato. Voi immaginate come sarebbe oggi la nostra vita, visto che sono diventati così indispensabili questi indumenti, se non avessimo gli accappatoi, soprattutto in inverno, uscire dalla doccia con il freddo e non trovare il nostro bell'accappatoio caldo, profumato, morbido, che in un attimo ci asciuga e ci riscalda, sarebbe un incubo. Per mantenere l'accappatoio efficiente nella sua funzione, bello morbido e profumato, noi dobbiamo averne molta cura, tenerlo sempre pulito, lavarlo con una certa regolarità. Ora vedete, io sto pre-lavando la parte alta dell'accappatoio, dove c'è l'attaccatura, quella che va ad asciugare il collo, il nostro collo e le spalle, lo sto pre-lavando, passandolo con un tocco di sapone di marsiglia. Questo aiuta il lavaggio perché in quel punto la nostra pelle è un pochino più grassa e quindi dobbiamo aiutare il lavaggio della lavatrice a insistere un po' su quella zona. Poi chiaramente mettiamo i nostri accappatoi in lavatrice. Io il lavaggio che faccio di solito è il lavaggio, il ciclo per il cotone, lo faccio a 40 gradi e i giri della centrifuga mai a più di 800, perché così l'accappatoio non si consuma, non si rovina nel tempo e rimane bello morbido. Vi dicevo è molto importante lavarli con una certa frequenza, perché dobbiamo ricordarci che l'accappatoio raccoglie residui della nostra pelle morta, raccoglie qualche piccola secrezione che c'è naturalmente nel nostro corpo e quindi va lavato. Non possiamo ogni volta riappenderlo magari proprio in bagno, che è già un punto molto umido della nostra casa, magari addosso a una parete dove non respira bene, non si asciuga velocemente. Diventa davvero pericoloso, diventa un covo di muffa, germi e batteri. Quindi va lavato sicuramente ogni 4-5 usi che se ne fa. Quindi considerate in inverno, visto che si fa quasi una doccia quotidianamente, dovete buttare i vostri accappatoi in lavatrice ogni 4-5 giorni. In estate è più facile perché se si fa asciugare all'aria aperta al sole, il sole già da solo disinfetta un po' questo capo, però naturalmente ogni 3-4 giorni anche in estate vanno lavati. Vedrete se voi trattate bene i vostri accappatoi, rimarranno morbidi, profumati nel tempo e saranno sempre un piacere. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Arrivederci, al prossimo! Spero che questo video vi sia piaciuto.